buonasera ciao elpi non si annullano i concerti così perché ti si rompe l'autobus perché l'aereo perché si fa di fatto che il concerto annullato rimborso ecco effettivamente non visto che già il secondo tentativo noi non torneremo mi spiace ce ne faremo una ragione continueremo a vivere senza ciao a tutti ci daremo tutti i soldi del rimborso alla facciaccia sua assolutamente ciao al prossimo forse concerto ciao intanto la palazzina di caccia è bella venite a vederla no un'altra cosa è un periodo un po un po sfigato per tutte le persone che prenotano delle cose dai biglietti aerei ai concerti dall'epoca del covid in poi abbiamo preso un sacco di sole poi ho prenotato un esame mi hanno detto tra due mesi devo andare quello lo farei bisognerebbe un po' pensarci perché poi la gente si stufa di prenotare pagando anticipatamente delle cose che poi non vengono erogate due anni che ho bloccati sti soldi qua ho perso anche gli interessi ho perso non si fa non si fa non va bene la gente perde fiducia e non conviene non conviene ai consumatori poi alla fine conviene perché sai che ti dico dicono va bene non prendo più niente guarda intanto però non siamo venuti qua per niente perché stiamo godendo di questa vista quindi va benissimo c'è una mostra che andremo a vedere di marylin su marylin quindi e poi lui è la sopra che veglia e poi la palazzina di caccia di stupinigi è sempre un posto dove bisogna andare se siete da queste parti chissà che non ci si veda qua in giro noi torniamo con le pive nel sacco mettiamo su dei ciclini no non mi citare Max Pezzali perché dovevamo andare venerdì sera a vederlo ma io non l'ho citato sì con le pive nel sacco è una frase ma non è che l'ha inventata lui l'ha inventata Max Pezzali ciao ragazzi